Nell'ambito della campagna nazionale di raccolta fondi per il terremoto del centro Italia, destinata alla realizzazione di strutture di utilità comunitaria nei principali centri colpiti dell'Abruzzo, del Lazio e delle Marche, l'ANA Abruzzi, l'Associazione Nazionale Alpini, ha siglato un protocollo di intesa con il Comune di Campotosto per la realizzazione di una struttura definibile come la Casa della Comunità. Devo ringraziare in particolar modo il Presidente nazionale dell'ANA Sebastiano Favaro che abbiamo incontrato dieci giorni fa proprio per aver voluto sposare questa causa e il fatto che ci permetterà, noi riteniamo prima dell'estate, conoscendo ben bene l'operatività che i nostri alpini sanno approfondire nelle loro azioni, una struttura che verrà allocata in una proprietà comunale, un terreno di proprietà comunale già predisposto all'uopo dal Comune e che possa essere utile non solo come sala polifunzionale di una certa dimensione, ma anche per ospitare tutte quelle funzionalità che sono necessarie, non solo in tempi di guerra come soldizi in questi casi, come il COC, come le strutture istituzionali preposte alla gestione dell'emergenza, ma anche per esempio il locale tecnico per gestire insieme a Enel e al Comune con il tema della Liga di Campotosto e un po' anche le altre attività.